Il Centro Sociale Bruno ha le prese con un avviso di sfratto da parte della provincia. Gabriele Arlati. Nei giorni in cui si festeggia il dodicesimo compleanno del Centro Sociale Bruno, i ragazzi che hanno dato vita a questa esperienza sono preoccupati per il loro futuro. Nei mesi scorsi hanno ricevuto una lettera del patrimonio del Trentino, con la quale viene comunicato che il contratto di comodato d'uso gratuito dello stabile di Lungadice e San Nicolò, dove attualmente svolgono le loro attività, scadrà il prossimo giugno. Anna Irma Battino, del Collettivo del Centro Sociale Bruno. La cosa curiosa è che non c'è una spiegazione chiara rispetto alla recessione di questo contratto, ma è stato inserito in una generica bonifica dell'area e del progetto di riqualificazione di Piedicastello dell'area Exit di Talcementi. I ragazzi ci mostrano le diverse attività che vengono svolte in questo centro, come la Sartoria Sociale, la Scuola di Italiano per Stranieri e le varie iniziative culturali. Il Centro Sociale esisterebbe a prescindere da uno stabile, non si annette, non si annulla un'esperienza in poco tempo, come se fosse la cosa più facile del mondo. Noi siamo in città da 11 anni e vogliamo continuare a starci.